Benvenuti alla quarta giornata del campionato di seconda categoria, girone C. Formazione predaia Odnes, Franzoi, Girardi, Grizardi, Gervasi, Orandini, Job, Chini, Piada, Stringari, De Pauli, in panchina Erlichel, Nicolodi e Zumeri, allenatore Matteo Valentini e guarda a linea Maniconz Andrea. Inizia la partita, Piada per Stringari, tira a lungo per Deppa, ma due di Carriolo chiudono e la palla finisce fuori. Calcio di punizione per il Caoriolo, batte lungo, colpo di testa alla predaia, spazza Chini, Piada cerca di cupro, ma fa fallo, punizione per il Caoriolo. Palla al centro, devia l'Orandini, che raggiunge De Pauli, avanza un po', lo passa Biada, ma non ci arriva. Chini, recupera la palla senza fare fallo, la passa a Rizzardi, cerca di tenere il controllo della palla. La passa a De Pauli, cerca di fare il tiki-taka, ma viene buttato per terra, fallo per la predaia. Batte Chini, diritto avverso la porta, il portiere devia il caccio d'angolo. Palla al centro, si fa di cercare di deviarla, ma il Caoriolo spazza via. Poi sceglie palla per Caoriolo. Rizzab di burro di l'avversario, e l'abito fischio a fallo. Punizione per Caoriolo. Traverso la porta, la palla finisce l'altro sopra la traversa. Possesso palla a Caoriolo. Avanza al centro, passa in avanti, si accentra, prova il tiro, la palla finisce fuori. Caccio d'angolo per Caoriolo. Palla al centro, ruolo di testa, la palla rimane lì. Deve via a predaia, recupera Caoriolo. Serie di passaggi per Caoriolo. Prova dalla lunga distanza, la palla finisce fuori. Yob, passaggio lungo per Rizzab di. Sopra la palla, viene buttato per terra. Fallo. Posizione per la predaia. Batte Rizzab di. Palla al centro, e il portiere spinge quei punghi. Caccio d'angolo per la pedaglia. Batte Kini. Yob, Kini. Tiro di Kini, viene in palla. Riprova ancora, viene in palla. Riva Stringari, tiro, sopra la traversa. Fallo su Yob. Punizione per la predaia. Stringari. Coppa di tacco per Biada. Tiro, il portiere para facile. Stringari. Passa a Franzoi. Avanza un po'. Passa a Kini. Avanza sulla fascia. Lunga per Yob. Sceglie e salta l'avversario. Tira, e la palla viene deviata in angolo. Kini. Palla per Yob. Viene buttato per terra. Rigore. Ventinesimo primo tempo. Yob sul discritto. Tiro. Rete della pedaglia. 1-0. Girardi. Corsa al centro. Comitessa per Cariol. Arriva Kini. Si accentra. Contra. Tiro. Deviazione. Faccia a Biada. Tiro. Vecca attraversa. Deppa. Passaggio centrale per Yob. Di primo per Biada. Che prova il tiro. Ma viene fermato. Arriva Kini. Segue i brassi. Tiro. La palla finisce fuori. Palla su Cariol. E catenino giallo per Gervasi. Punizione per Cariol. Tiro. La palla finisce fuori. Rizzardi dall'angolo. Palla al centro. Palla al centro. Palla di testa di Rolandini. Ed avuto fisca il fuorigioco. Puginissini per Cariol. Palla al centro. Puginissini per il testa. E Angelo la prende senza problemi. Faccia tanto per la pedaglia. Palla al centro. Puginissini per Cariol. La palla rimane lì. Rolandini di rovesciata. Per Deppa. Ma viene intercettata. Senta nel contrario Deppa. Ma perde la palla. Palla al centro, nessuno ci arriva e Angelo lo respinge Palla al centro, colpo di testa, la palla rimane lì, la palla finisce in angolo Palla al centro, colpo di testa, la palla finisce fuori Punizione Caoriol, passaggio lungo, colpo di testa e Angelo senza problemi la prende Colpo di testa per Daya, Rizzardi in profondità per De Paoli Che avanza sulla fascia, passa al centro per Biada che non ci arriva Ma arriva Rizzardi, la palla finisce fuori De Paoli, passa a Girardi, che scivola Ed Caoriol ne approfitta sulla fascia, punta l'avversario, passa al centro Una serie di passaggi, la terra posa sulla fascia sinistra Corsa al centro, prova il tiro, la palla finisce fuori Punizione per Daya, palla al centro e potere rinvia con i pugni Caoriol, profondità, prende Gabbo Chini cerca di prendere la testa ma non riesce Caoriol cerca di andare sulla fascia L'altro avversario, arriva Gervasi che salva, vuol essere portiere Punizione Caoriol, dritto in porta e Angelo c'è Questo per Daya, Biada, dritto per Job, avanza un po', passaggio lungo per Chini ma non viene intercettato Prova a ripartire il Caoriol con una serie di passaggi nel centro campo Ma Chini recupera, quindi per Daya riparte con Job, passaggio lungo per Biada ma non ci arriva Messa laterale per la predaya Biada, passato per Chini che tira e la palla finisce fuori Possesso palla a Caoriolo, tira da una lunga distanza e la palla finisce fuori 32esimo secondo tempo, caccio di gol per Caoriolo Gol 1 a 1, caccio d'angolo per Daya, palla al centro, Donadini si troppa di petto Adio Gervasi ed Erete, ma l'abito fiscale fuori gioco Rimessa a Predaya, passaggio lungo per Job, controlla la palla Gervasi, rischia di andare in porta e il potere ci arriva Angelo, batte la punizione, passaggio lungo, Gervasi rischia di andare in porta e il potere devia in angolo, ultimi secondi, caccio d'angolo per Daya L'abito fiscale alla fine, la predaya vince 2 a 1 Qui vediamo la classifica dopo 4 giornate di campionato Che vede la predaya a terzo posto, a pariometri col mezzolombardo E a 3 punti dal Paganella Noi ci vediamo domenica 8 ottobre alla VIS contro il capodista Paganella, ore 18.30